Buongiorno a tutti ragazzi, nel giorno dopo la sconfitta dell'Inter con l'Empoli in casa per 1-0 Incredibile vittoria dei ragazzi di Zanetti a San Siro, partita sicuramente viziata da un'espulsione di Milan Skriniar ma banalizzata la prestazione, prestazione che nell'Inter è stata un po' quella della falsariga di Monza un Inter che nelle partite secche e negli scontri diretti appare una squadra e poi si perde in queste partite qua e per una squadra che vuole vincere Scudetti e essere tra le top in Italia sicuramente non può permettersi questi passi falsi mattatore di serata Tommaso Baldanzi, ragazzo del 2003 che sta facendo benissimo quest'anno con l'Empoli Empoli che con questa vittoria si affaccia alla zona conference incredibilmente con 25 punti e sicuramente sta affrontando un campionato di tutto rispetto